Gli organismi geneticamente modificati continuano a far discutere se la maggior parte dei governi cerca di imporre questo tipo di prodotti, dall'altra parte cresce anche il fronte dei contrari. L'Ubiana ha ospitato Nicola Alexic, un esponente di spicco della resistenza europea agli OGM. Rebecca Leguic. A L'Ubiana in questi giorni si è svolto un importante convegno riguardante la problematica degli organismi geneticamente modificati. Un argomento scomodo perché in diretto contrasto con gli interessi delle corporazioni mondiali dell'industria alimentare e farmaceutica. Ad esporre le proprie ricerche e conclusioni, Nicola Alexic, il direttore del movimento ecologico della città di Novi Sad, è stato più volte perseguitato dalle forze dell'ordine per aver parlato apertamente nei media e in pubblico del pericolo e dei rischi derivanti dal consumo di tali prodotti e delle imposizioni del Codex Alimentarius. Le linee guida di questo registro di norme internazionali, che in pratica controlla il cibo per tutelarci, paradossalmente permette ad esempio l'utilizzo di 7 dei 12 erbicidi più dannosi, l'ormone della crescita, i resti degli antibiotici nelle carni commestibili, i sementi geneticamente modificati. Si pensi che sotto la diretta pressione della Monsanto in America è stata approvata dal Senato la legge secondo la quale non ci sarà alcuna etichettatura specifica per i cibi e le bevande OGM, nonostante il 90% della popolazione era contrario. Il vecchio continente ha già avviato da tempo la campagna europea pro-OGM. Un altro problema direttamente correlato è l'irrorazione dei nostri cieli con sostanze chimiche, che direttamente influiscono sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. Il consigliere scientifico del presidente Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo, ormai da più di 15 anni, effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complotiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime nonostante le continue prove e confessioni anche da parte dell'autorità.